Beh, allora, sono grandi parole e bisogna cercare di trovare una coerenza nello scaricarle a terra. Sì, fanno parte della storia della mia famiglia, le ho fatte per quanto possibile mie. Ci sono oggi dei temi che non permettono più, diciamo, un'evasione da questi grandi temi o almeno da parte di questi grandi temi. Credo che sia una grande convenienza per tutti, credo che siano delle opportunità economiche, diciamo, insite nel ragionare insieme, anche a tutela di filiere di eccellenza in cui l'Italia si gioca un bel pezzo del proprio futuro. Quindi direi Italia è umanità, ecco. L'umanità è fatta di noi e abbiamo necessità di lavorare, di creare dei presupposti per cui questi siano lavori che in modi diversi ci saranno tra centinaia d'anni. con persone che cresceranno all'interno di queste filiere. Io in questo faccio la mia minima parte, cercando di essere magari un pochino visionario e un pochino un esempio per chi è più giovane di me.